Una traccia di pneumatici, di mezzi pesanti, ci accingiamo a fare un'ispezione per quanto riguarda lo sversamento di rifiuti nel comune di Ponte Cagnano. Non effettuiamo alcun tipo di violazione di domicilio, anche perché il cancello è stato aperto, la rete è stata diverta. Come potete vedere dalle immagini, procediamo all'interno. Attività di controllo del Nogra Salerno nei pressi dell'ex tabacchificio Farinia di Ponte Cagnano, situato in località Picciola. Fra i rifiuti, scarti edilizi, materiale organico e rifiuti speciali. Gli agenti del Nogra hanno verificato la presenza di tracce che potessero ricondurre ai responsabili dello sversamento. Tutti gli atti sono stati inviati agli organi competenti per rirogare le sanzioni previste, nonché la denuncia all'autorità giudiziaria.